1.127 cartoline per chiedere la riqualificazione del mercato coperto, uno dei luoghi più frequentati di Como. Dopo la raccolta firme organizzata nelle scorse settimane, ieri il presidente di Confesercenti Claudio Casartelli ha consegnato le cartoline nelle mani del sindaco Mario Landriscina e dell'assessore al commercio Marco Butti. L'assessore, spiegano da Confesercenti, aveva già presenziato ai nostri gazebo e si è impegnato a prevedere a breve un piano di pulizia generale e la bonifica dai piccioni. Nei prossimi mesi dovrebbero anche imbiancare i padiglioni. Per quanto riguarda gli ingressi automatizzati e la ristrutturazione e la pulizia dei bagni che versano in condizioni indegne, dovremo aspettare l'intervento dell'assessore Vincenzo Bella. L'incontro in municipio si è focalizzato su altri due interventi importanti. Abbiamo chiesto la controsoffittatura a 3,20 m e l'aria condizionata, dicono da Confesercenti, per creare le giuste condizioni sia per la corretta conservazione dei prodotti, sia per i visitatori, perché durante l'estate fa troppo caldo e in inverno fa troppo freddo. Altro problema sollevato è quello della scarsa accessibilità al mercato. Mancano i parcheggi, dicono, non devono essere toccati quelli esistenti. È necessario crearne di nuovi, altrimenti la gente sceglierà di recarsi altrove a fare la spesa. La petizione chiede anche l'affidamento in gestione del mercato a un consorzio di operatori. Proposta, conclude Confesercenti, accolta positivamente dall'assessore Butti.